Provate ad immaginarvi una favola, una di quelle che non stanno scritte nei libri per bambini, ma che prendono forma nella vita reale in una piccola cittadina del sud Italia di 60.000 abitanti. Provate a pensare ad un bambino figlio di quella terra, mentre gioca col suo giramondo, palla rigorosamente fra i piedi e sceglie il posto perfetto in cui far avverare quel sogno. Immaginatevelo distratto fra i banchi di scuola, la testa fra le nuvole, poca voglia di studiare, ma tanta, tantissima voglia di dimostrare il suo talento. E allora via, borsone in spalla, valigi leggeri alla mano ed un'infinità di chilometri d'autostrada a cui andare incontro, il Giro d'Italia che prende ufficialmente il via, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Toscana e poi di nuovo Puglia, Serie D, Eccellenza, Serie C e poi di nuovo Serie D, un tour del bel paese con una valigia che a poco a poco è diventata sempre più pesante. E allora eccolo lì, il bambino che si è fatto uomo e che come allora a suon di gol esclama, Piacere, Cosimo Patiarno da Bitonto, per gli amici Chicco. Eccolo lì, indossare alla perfezione la sacra maglia nero verde, fascia da capitano al braccio, movenza di attaccante moderno e scendere in campo la domenica assieme a tutti i suoi compagni per realizzare qualcosa che resterà storico. Storico come la sua rete numero 100 in carriera contro il Sorrento in un affoso pomeriggio di aprile dinanzi alla sua gente e la sua immancabile famiglia. Storico come la doppietta con la quale una settimana fa ha sfattato il tabù fasano in diretta nazionale. Storica, infine, come la favola del ragazzo di provincia, partito con un pugno di speranze ed oggi idolo indiscusso di una città che è deletto come re del gol del calcio bitontino. E allora sì, è proprio vero che certe favole non stanno scritte nei libri per bambini, ma puoi leggerle vivere di domenica in domenica sui gradoni di Via Megra, dove un'emozione calcistica è intesa di storia e da più di 100 anni unisce i più grandi ai più piccini. Grazie a tutti.